Ricorderete bene che qualche anno fa, credo che siano passati ormai quattro anni, mi è venuto in mente di istituire una borsa di studio intitolata Mio Papà, che faceva il medico, vedete, di un piccolo paese, però pensava in grande. E se non avesse pensato in grande, probabilmente io oggi non sarei qui. E ho provato a tradurre in lingua italiana quello che lui diceva in siciliano. Chi ducicciai nella testa non te lo può rubare mai. Cioè quello che tu hai imparato studiando non te lo possono mai togliere, né mobbizzandoti né mettendoti da parte, perché la cultura rappresenta la cosa più importante. Allora, abbiamo lanciato questa iniziativa due anni fa, si tratta di una cifra, tra virgolette, irrisoria, solo 5.000 euro, quelli che ci possiamo consentire di ricavare, però abbiamo realizzato dei progetti di ricerca importanti. La prima borsa è andata a Corrado Iacono, farmacista dell'azienda Uso di Bologna, con cui abbiamo fatto un monitoraggio della ricerca indipendente AIFA, cioè abbiamo visto quanti dei soldi pubblici affidati da AIFA avevano prodotto realmente delle pubblicazioni e quante invece erano state indietro. La seconda l'abbiamo realizzata con il patrocino dell'Istituto Superiore di Sanità e della Guideline International Network. Alla luce dell'attuazione della legge Gelli siamo andati a vedere in Italia quante linee guida di società scientifiche avevano dei criteri di qualità e di indipendenza. La terza, l'anno scorso, che vedrete presentato oggi pomeriggio, l'abbiamo fatto con il Sisme, che è il segretariato italiano degli studenti di medicina, dove siamo andati a spulciare, visto che parliamo di evidenze scientifiche, quanto i corsi di laurea in Italia hanno introdotto l'insegnamento strutturato dell'evidence-based medicine, o quanto invece rimane più un'ipotesi che non è suffragata da dati concreti. Allora, quest'anno a che cosa destiniamo la borsa di studio? La destiniamo alla tematica della governance delle liste d'attesa. Perché? Noi sappiamo che il piano nazionale di governo delle liste d'attesa, PNGLA 2010-2012, ha identificato 58 prestazioni per cui Asle e ospedale devono fare rispettare i tempi massimi. Le regioni, uso il condizionale, avrebbero dovuto recepire il programma nazionale per il governo delle liste d'attesa. E ogni azienda sanitaria avrebbe dovuto redigere il piano aziendale attuativo e dare opportuna diffusione ai cittadini. Sabina Nardi, come si dice, in Sicilia, cala la testa perché sa esattamente a che cosa mi riferisco. C'è in progresso un nuovo piano nazionale per il governo delle liste d'attesa che non risulta ancora pubblicato. Qual è il vero problema per il servizio sanitario nazionale? Che se noi andiamo a cercare sui siti istituzionali, non esiste nessun monitoraggio pubblico sistematico su recepimenti regionali del piano nazionale del governo delle liste d'attesa e redazione dei piani aziendali. Quindi sostanzialmente tutte le informazioni che noi abbiamo sulle liste d'attesa da dove derivano? O da interviste a campione come quelle che ha fatto Eurispes oppure da segnalazioni come quelle che periodicamente raccoglie cittadinanza attiva. Questo è il motivo per cui quest'anno la borsa di studio intitolata Mio Papà che si chiama come titolo Governance delle liste d'attesa all'obiettivo di andare ad analizzare il ricepimento regionale del piano nazionale per il governo delle liste d'attesa e la valutazione dei piani attuativi aziendali. Ad avere riconosciuta questa borsa è una delle giovani, visto che abbiamo sempre uomini, quest'anno è giusto che vada una donna, si chiama Vincenza Gianfredi, studia all'Università degli Studi di Perugia e una delle giovani leve che abbiamo allevato all'interno del programma Jimbo Foriang che chiamo sul palco insieme a mio figlio Gioacchino che porta il nome di papà. Non l'ho fermato, lo fermiamo in diretta. Allora facciamo così. Grazie. Grazie.